Ciao a tutti, io sono Chiro di Melamorsicata.it e oggi voglio recensirvi un prodotto un po' speciale è questo qui, si chiama Bloggare alla grande un libro che ho scritto io e che raccoglie tutte le informazioni e i consigli per aprire il proprio blog e per portarlo avanti quello che ho voluto fare all'interno di questo libro è prendere in considerazione tutte le domande che mi sono state poste in questi anni cioè su quale piattaforma devo costruire il mio blog come faccio a farlo diffondere come faccio anche a monetizzare perché è importante anche questo ricavare qualcosa per sostenere le spese del proprio blog quindi ho raccolto tutte queste informazioni, le ho scritte, le ho controllate, le ho verificate e poi le ho fatte anche correggere da una persona esterna e sono state tutte raccolte qui, in questo libro Bloggare alla grande contiene sette capitoli che parlano di informazioni varie su come gestire una metafora che utilizzo il proprio bar, nel senso come gestire questa grande platea di persone che vengono a leggere informazioni che scrivete voi e che sono interessate a quello che scrivete a commentarle, a crescere questo pensiero di informazione base che poi insieme diventa più grande e più completo all'interno trovate quindi informazioni, come cita anche l'indice, gli strumenti, la grafica, i contenuti, la visibilità nel web, la conversazione con gli utenti, il lavoro di squadra e poi il capitolo finale, altrettanto importante, come monetizzare il proprio blog trovate Blogger alla grande su, nello shop di pensieri parole attraverso il quale, grazie a questa collaborazione, parte del ricavato sarà anche devoluto alla città della speranza una fondazione che si occupa di finanziare quei progetti che vanno a trovare la soluzione a malattie che colpiscono i bambini lo trovate lì in formato cartaceo, per il formato ebook non so se uscirà, ci stiamo lavorando ma il processo è piuttosto lungo quindi se volete lo trovate lì, Blogger alla grande magari può far piacere alle persone che stanno aprendo un blog che vogliono incrementare, migliorare la gestione del proprio blog e può interessarli quindi tutte le persone che vogliono entrare nella blogosfera italiana o estera, come volete trovate la blogger alla grande quindi su pensieri parole, lo show del loro shop, pensieri parole.it oppure su ibs.it fatemi sapere cosa ne pensate con la loro acquistata va bene? Grazie e alla prossima, ciao